Musica Benvenuti al nostro TG Sport cari amici di Telemolise per il campionato di Serie D. Vediamo le gare in programma. Sono già in campo San Nicolò-L'Aquila. Si giocano domani Francavilla-San Marino, Monticelli-Vispesaro, Olimpia-Agnonese-Matellica, San Giustese-Jiesina. Scenderanno in campo domani alle 15, Nero-Stellati-Vastese. Sono già state posticipate a sabato 10 marzo Campobasso-Recanatese, domenica 11 marzo Castelfidardo-Avezzano, mentre al 21 di marzo Fabriano-Cerreto-Pinetto. L'Olimpia-Agnonese domani in casa attende la capolista Matelica. Ventisesima giornata del Girone F con il favore del campo per l'Olimpia-Agnonese, che domani ospiterà il Matelica. I marchigiani con i loro 60 punti sono in testa alla classifica, una gara difficile per i padroni di casa, che dovranno vedersela con una delle formazioni più in forma del campionato. L'Agnonese deve ripartire dal pari contro la Recanatese, un punto fondamentale conquistato a denti stretti, che ha smosso, anche se di poco, la classifica e che ha soprattutto risollevato il morale. La buona prestazione di una settimana fa ha rigenerato gli altomolisani, sottolineando la gran voglia di conquistare al più presto la salvezza e mantenere la categoria. Contro il Matelica è importante giocarsela fino all'ultimo minuto con la massima attenzione. La gara è certamente tra le più ostiche, ma nulla è dato per scontato. Nella settimana appena trascorsa, entrambe le squadre hanno dovuto far fronte alle avverse condizioni meteorologiche, ma in vista del match del Civitelle si è lavorato intensamente. Mister Tiozzo ha preparato al meglio la sua squadra, queste le sue parole. L'Agnonese in casa sta costruendo la propria salvezza, per cui sappiamo che andremo incontro ad una battaglia vera e propria. La formazione iniziale potrebbe essere la seguente. In Porta Faiella in difesa ha riconfermato Corbo in rete contro la Recanatese con Frabotta, Rullo e Cassese. In mediana corso, Madi e Niang, in avanti De Stefano Ceri e Santoro. Con regolare fischio d'inizio alle 14.30, sul sintetico del Civitelle, Olimpia Nionese Matelica sarà diretta dal signor Giorgio Piacenza di Bari, assistito da Francesco Piauccello di Roma 2 e Marco Cerilli di Latina. Ricordiamo che domenica prossima, 11 marzo, la Serie D resterà ferma per il torneo di Viareggio. Il Matelica scenderà comunque in campo venerdì prossimo per i quarti di finale di Coppetalia contro il Sandonato Tavarnelle. Oggi ultimo allenamento per il Campobasso, weekend libero, visto il rinvio della gara interna con la Recanatese, che si giocherà sabato prossimo, 10 marzo. Il Campobasso ha chiuso la propria settimana di allenamenti proprio questo pomeriggio. Foglia Manzillo ha fissato la ripresa dei lavori per lunedì prossimo. Non c'è da preparare una gara dura più di quanto reciti la classifica. La Recanatese è intervenuta con prepotenza sul mercato invernale, aggiudicandosi le prestazioni di Falomi e Pera su tutti. I prossimi avversari del Campobasso hanno tutte le carte in regola per uscire dai fanghi dei play-out. Sarà una settimana di grande concentrazione per la squadra rosso-blu con l'obiettivo di riabilitare il maggior numero di infortunati possibili. Sabato, nell'anticipo di Selva Piana, mancheranno certamente tre squalificati, Varsi, Capozzi e Danucci. In dubbio altri giocatori per motivi di carattere fisico. Ad ogni modo non è mai stato nel costume di Foglia Manzillo lamentarsi o accampare scuse. Si gioca con quelli che si ha a disposizione in quel dato momento storico della stagione. La nona di ritorno segnerà l'incrocio tra squadre della parte alta della classifica con quelle situate in zone meno nobili. Oltre ad Agnone Matelica, che è senza dubbio la gara clou di giornata, c'è anche un Monticelli-Pesaro da tenere d'occhio. I pesaresi devono rimanere nella scia della capolista, mentre il Monticelli è costretto a vincere per non incrementare il distacco dalla sest'ultima, che oggi è di sette punti. Portarlo ad otto o più di otto significherebbe retrocessione per il Monticelli. Per importanza segue Castelfidardo Avezzano, distanti fra di loro solo un punto. L'Avezzano, vincendo, blinderebbe il terzo posto Lavastese. Invece perde da cinque partite consecutive. Un pronto riscatto potrebbe essere servito dai nerostellati, ultimi della classe che dal canto loro vorrebbero aggravare la crisi del provasto. Sfida da centro classifica fra Francavilla e San Marino, con gli ospiti che aspettano di recuperare la partita contro il Nerostellati. San Giustese e Jesina sembrerebbe avere un'importanza fondamentale, più per la squadra di Jesi che per la squadra di Monte San Giusto, che ad oggi può apparire al riparo da brutte sorprese con i suoi 35 punti. Il San Nicolò cercherà di tenersi stretto. Il suo più tre di vantaggio sulla zona play-out contro l'Aquila, squadra che può senza dubbio insidiare i giuliesi. Questi ultimi sono particolarmente fragili. Fra le mura casalinghe chiude il quadro degli incontri della nonna di ritorno Fabriano Pineto. Un quadro più chiaro degli eventi si potrà avere soltanto dopo i recuperi fra Campobasso e Recanatese e fra San Marino e Nerostellati. Sono gare infatti che avranno effetti inevitabili, sia sulla corsa al quinto posto che su quella per scampare ai play-out. Calcio a 5 di Serie B. Torna al Palavonimo il CLN Cus Molise contro il Real Demi. In trasferta a Canosa la Chaminade squadra in campo alle 16. Adesso il campionato d'eccellenza. Tre gli anticipi Campo di Pietro Limpiariccia, Treppini-Mattese, Campobasso 1919 e Venafro-Alife. Domani Boiano-Vastogirardi, Frentania-Esernia, Guionesi-Termoli, Spinete-Gambatese e Vulcania-Sesto Campano. Scontro a distanza domani fra Isernia e Vastogirardi. La capolista ospite della Frentania e giallo-blu a Boiano. L'ottava giornata di ritorno del campionato di eccellenza ha l'amaro in bocca per lo Spinete. La squadra matesina che nella gara del 18 febbraio scorso aveva vinto per 4-2 contro la Life si ritrova invece ultima in classifica in seguito al reclamo della stessa Life poiché il calciatore Bengue non era tesserato alla data della gara. Il giudice sportivo territoriale ha decretato dietro accertamento la sconfitta a tavolino per la Spinete che intanto domani col Morare a terra affronterà il Gambatesa. Romei, De Gregorio e Mainolfi per la regolarità della gara. Al Colalillo match interessante tra i ragazzi di Mister Gioffre e quelli di Mister Grossi. Il Boiano ha necessità di uscire dal limbo e puntellare la zona salvezza. Il Vasto Girardi punta alla promozione. Albitro Pacella, assistenti, quici e buona vita. E' ospite della Frentania a Serra Capriola la prima classificata Isernia. La squadra di casa neopromossa mira ad un miglior posizionamento in zona salvezza. Gli ospiti non vogliono scendere dal podio. Per la regolarità della gara Massari abbibò 40. Attesissimo il derby tra il Guionesi ed il Termoli. La squadra di casa ha la salvezza assicurata ma ovviamente non deve sottovalutare gli avversari interessati ai playoff. A dirigere l'incontro Vasile, quadiuvato da Gentile e Veneziale. Ultimo match in programma, Vulcani a sesto campano. Punti pesanti in palio, le squadre hanno bisogno di miglior posizionamento in zona playout. Arbitro Saluppo, assistenti, Rocchio e Izzo. Campionato di promozione. Tra gli anticipi Baramello Carovilli, Cliternina Ferrazzano, Molise, Chieuti. Si giocano domani Casanovo, Montelotaro, Mattese, Castelmaro, Oruri. Rocca Sicura, Pietra, Monte Corvino, Santeliana, Roseto, Termoli, Comprensorio, Verano. Il quadro si chiude domani, diverse gare interessanti. Eccoci giunti alla ventitresima giornata nel campionato di promozione. Dopo lo scorso weekend, da quasi blackout, le temperature si alzano e si torna in campo sempre con più carica. In programma domani, Casanovo-Monterotaro, Mattese. Match davvero impegnativo per i padroni di casa che ancora nella zona bassa della classifica si scontreranno con la più temuta. Un gioco da ragazzi per la capolista Matese, da vedere. Arbitro Valerio De Castro di Campobasso. A Castelmauro, l'Ururi, calcio. Il Castelmauro, tornato vittorioso dalla trasferta contro il Ferrazzano, può dirsi pronto ad ospitare la vicina di graduatoria. Le separano infatti solo tre punti in favore dell'Ururi. L'Ururi, dopo la vittoria in casa di 2-1 contro il Casalnuovo, non farà sconti. Due team entrambi combattivi e affamati di gol. A dirigere la gara, Daniele Picciucco di Campobasso. Big match di giornata Rocca Sicura, Pietra Montecorvino. Ospite poco docile e duro da battere, il Pietra sembra inarrestabile. Vittorioso in casa contro il Baranello con ben tre reti e solo un punto che lo separa dalla capolista. Il Rocca Sicura, invece, team altrettanto grintoso e forte e reduce da sconfitta a Roseto. Gara che lascerà tutti con il fiato sospeso, arbitrata da Domenico Petraione di Campobasso. Sant'Eleana-Roseto, partita impegnativa per i padroni di casa che si scontreranno con la terza della lista. La formazione Roseto ha sin da subito mostrato carattere in campo con un inizio campionato brillante. Tutt'ora rimane tra le vette a dirigere i 90 minuti Davide Mastroianni di Isernia. In conclusione, Termoli 2016, Comprensorio Verano. Gli adriatici ancora in pausa di riflessione non possono permettersi errori. Senz'altro ottima occasione questa per confrontarsi con una squadra di livello come il Comprensorio Verano, che ha conquistato poco a poco la zona alta della classifica. Arbitro Marco Aurisano di Campobasso. Pattinaggio. Domani gli atleti dell'ASD Pattinaggio Campobasso saranno impegnati nel campionato regionale di corsa in Doar ad Avezzano, in provincia dell'Aquila. Nutrito il gruppo dei giovani pattinatori campobassani, sono ben 15 che parteciperanno alla gara federale in Doar indetta dalla Federazione Abruzzese ed organizzata dall'ASD Roller Skating Avezzano al Palazzetto Marini. In gara le categorie giovanissimi, anni 2009-2010, esordienti 2007-2008 e ragazzi 2006. Lunedì si torna in campo per il 3 contro 3. Vediamo la grafica. 3 contro 3, Girone e Liga. Betis, Getafe, Real Madrid, Las Palmas, Siviglia, Atletico Madrid, Valencia, Barcellona, Villareal, Celta, Vigo. Premier League, Leicester, Liverpool, Manchester United, Arsenal, Tottenham, Swansea, Watford, Chelsea e West Ham, Manchester City. Al Pala Unimol in campo per la terza andata del primo torneo di Street Soccer. Dopo la sospensione per via delle condizioni atmosferiche, lunedì si torna sul parquet del Pala Unimol per la terza giornata del primo campionato di Street Soccer 3 contro 3. A partire dalle 20.15 il via contemporaneamente su due campi, Liga e Premier League. A proposito del campionato, ricordiamo che c'è tempo fino a lunedì 5 marzo per l'iscrizione al fantacalcio. Fantallenatori pronti a sfidarsi a suon di bonus e malus per lottare in testa alla classifica generale, ma anche di giornata con premi previsti settimana dopo settimana. Intanto ha spopolato l'iniziativa dell'organizzazione di nominare il top e il flop of the week, in base ai voti dati al termine delle gare con conteggio di bonus e malus. Per il momento il Manchester United ha fatto incetta di premi positivi. I due migliori delle prime giornate sono risultati Manuel Vitone e Antonio Petraroia. Al contrario flop per Pierluigi Manelli dello Suonzi e Paolo Pizzuto del West Ham. Attesa per le gare di lunedì, previste diverse sfide di cartello. In Liga, Real Madrid-Las Palmas è sicuramente la gara di cartello. Da un lato i Blancos in testa alla classifica, dall'altro i Canarini guidati da Tigre di Gregorio alla ricerca del primo successo stagionale. Da segnalare anche Betis contro Getafe, sei punti contro quattro, sfida sicuramente in equilibrio. Pronto a bissare il successo il Barcellona contro il Valencia. Da possibile sorpresa invece, Via Real-Celtavigo chiude il programma Atletico Madrid-Siviglia e entrambe ferme al palo con la voglia di sbloccarsi. In Premier lo spettacolo è assicurato. Il dato statistico vede le squadre inglesi segnare e subire mediamente molto di più rispetto a quelle della Liga. Al vaglio le prime scaramucce goliardiche tra i diversi rappresentanti delle due leghe sulla difficoltà maggiore o minore di un torneo rispetto ad un altro. Questa sarà una storia da scrivere in un secondo momento con le sfide a fine campionato di Champions ed Europa League con la fusione dei due campionati. Sulle gare di domani, big match tra United e Arsenal, equilibrio in Leicester-Liverpool e Tottenham-Swonzy. Infine cercano conferme City e Chelsea contro West Ham e Watford. Basket femminile di Serie A2 si torna in campo per la sesta di ritorno. Oggi palla due alle 18.30. Al Palavazzieri in campo la Molisana-Campo Basso fa Enza. In Cisilver domani l'Aerino Basket Termoli all'Aquila per la prima gara della fase ad orologio. Nel campionato maschile di Serie B sosta per dare spazio alla Coppa Italia per il Globo Isernia a tempo di recuperare energie in vista delle ultime gare stagionali. Nel girone D della Serie B di basket è tempo di Coppa Italia. Quindi per il Globo Isernia pausa forzata. Stop questo che arriva al momento giusto in vista delle ultime fondamentali partite che diranno quale destino avrà la squadra Isernina. In questa settimana staff tecnico e società faranno il punto della situazione per cercare un miracolo che ad oggi sembra impossibile. Ma come dice il detto, finché c'è vita c'è speranza. Esmorra e Sochi fino al quarantesimo dell'ultima giornata daranno il 100% per centrare una salvezza che sarebbe storica. L'obiettivo è non arrivare ultimi, che significa retrocessione diretta. La penultima posizione dista due vittorie ed è attualmente occupata dalla Treofan Battipaglia. E fra tre giornate c'è in programma proprio lo scontro diretto sul parquet campano. Prima però ci sono due partite sulla carta impossibili. Salerno fuori e Valmontone in casa sono in piena zona playoff con 34 punti. Ma tant'è, la palla spicchi può riservare sorprese ed è questo quello che sperano tutti i tifosi Sernini. Tornando alla squadra in notizia di pochi giorni fa, il play Andrea Murolo ha rescisso il contratto e ha lasciato la squadra. Il roster è ormai ridotto all'osso. In questo finale di stagione si punterà molto sui giovani. La situazione è quasi compromessa ma Smorra e Sochi ci proveranno comunque. Palla a volo maschile di serie C. Oggi alle 17.30 la Laborvetro Campobasso al Paraferentinum scende in campo contro il Paglieta. In serie D femminile in campo domani a Loreto. La nuova palla a volo Campobasso. Lara Fagnano libero della nuova palla a volo Campobasso. Avete aggiustato un po' la classifica con questa vittoria? Sì, speriamo vada tutto bene per il resto. Però siete in un certo senso destinate al play-out? Sì, perché comunque abbiamo perso parecchie partite. Purtroppo non siamo sempre in forma e spesso mancano le persone della squadra e a volte anche gli allenamenti. Però diciamo che almeno siamo riusciti a concludere il campionato in maniera più serena. Abbiamo rubato per la telecronaca, rubato tra virgolette Lucia De Soccio. Non è stata in panchina? Avete sentito la mancanza? No. Vabbè, povero Lucia, sì. È sempre molto carina con noi. Ama la cura del dettaglio? Sì. Infatti a volte ci sta molto addosso. Perciò è meglio se fa la telecronaca. Nuoto al meeting Bari Swim Contest. Buoni risultati per l'H2 o Sport del presidente Massimo Tucci. In campo maschile Michele Gianpietro Cadetti ha portato a casa un oro nei 1.500 stile. Grandi sono state le soddisfazioni anche sul fronte femminile. Martina Lonati, categoria ragazze, ha vinto gli 800 stile. Sono stati d'oro anche i 50 d'orso di Serena Nanni, oro per Michael Montefalcone Juniores nei 200 farfalla. Restando tra le Juniores, Lorenza Piano si è aggiudicata i 100 farfalla. Sofia Mancini, esordiente A, nei 100 rana è risultata prima. Pesca sportiva, viste le cattive condizioni delle acque, sono state rinviate a data da destinarsi le immissioni delle trote sia nel tratto Fipsas che Iridea. Adesso vediamo le grafiche di prima e seconda categoria. Prima categoria, girone A, ventesima giornata. Ala Fidelis, Real Prata, Atletico Mignano, Fornelli, Arora Capriatese, Masseria e La Corte, Baes Vareano, Ruffer Presenzano, Domenico Desisto, Volturnia, Macchia, Castel di Sangro, Rocca Ravendola, Forum, Sporting La Pietra, Pozzilli. Raggruppamento B, Atletico San Pietro in Valle, Cerce Piccola, Campobasso Calcio, Real Gildone, Don Chessagnone, Carpinone, Mondimitar, Trivento, Pesche, Maronea, Ripa Limosani, Mirabello, Sant'Angelo Limosano, Quartiere Campopasso Nord, Vinchiaturo, Chiauci. Raggruppamento C, Angioina Colle Torto, Porto Cannone, Biccari, Tre Colli, Rotello, Casali, Dauni, Altiglia, Samnium, Fiammalarino, Matrice, Gruppo GSM, Guardia Alfiera, Petacciato, Macchia, Fortore, Polisportiva, Fortore, Turris, Calena, Campomarino. Scendiamo in seconda categoria, girone A. Castello Matese, Giovani, Morcone, Fossaltese, Miranda, Nuovo Vettoranello, Tora e Piccilli, Sant'Angelo, Campo Chiaro, Salcito, Castropignano, Sassinaoro, Macchia Godena, Sepino, Montenero. Diciottesima giornata anche nel raggruppamento B, Mafalda, Oratino, Muxufoni, San Felice, Ripa Bottoni, la seconda Baranello, Roccavivara, Fiamma Folgore, San Giovanni, Ingaldo, Morgia, Petracatella, San Marco, Adacstoro, Tufara, Celenzia. Vi ricordo gli appuntamenti con lo Sport domani alle ore 14.25 a tutto campo in studio insieme a Luigi Di Lallo, Benedetta Fazio e poi collegamenti naturalmente da tutti i campi dove giocano le squadre molisane. Alle 18 domani pomeriggio l'appuntamento è con Domenica Sport. fatti, commenti, interviste e immagini alla Domenica Sportiva. Vi segnalo anche i nostri highlights domani sera a partire dalle ore 22. Subito dopo ci sarà domani infatti il giorno delle votazioni politiche. Quindi subito dopo a partire dalle ore 23 vi ricordo la diretta, la non stop elettorale. naturalmente in diretta dagli studi di Campobasso, Termoli e Isernia e da vari punti strategici naturalmente a livello politico della nostra regione. Quindi a partire dalle ore 23 vi ricordo la non stop elettorale. Vi ricordo anche che domani sera la replica del nostro programma Domenica Sport che trasmetteremo regolarmente in diretta alle 18, ebbene alle 22.30 non andrà in onda sul canale 11 vista la concomitanza con la non stop elettorale, ma andrà in onda sul canale 112. Quindi chi avesse perso evidentemente l'occasione di seguirla in diretta, naturalmente ci auguriamo che siano pochissimi, ebbene potrà seguirla a partire dalle 22.30 sul canale 112 del nostro canale dedicato allo sport. Bene, è tutto, buon fine settimana!